I reati sono costantemente in calo, la percezione di insicurezza è infondata, le parole del presidente della Porta di Appello di Brescia. Attualmente nessun caso di vaiolo delle scimmie in Lombardia, ma la regione tiene alta l'attenzione. Ieri il momento del ritrovo dopo gli anni della pandemia, le imprese bresciane tornano a fare rete con il Brescia del fare. Gara fondamentale, ma non ancora decisiva, quella fra la Germani e Sassari in programma questa sera, 20.45. Costruire un futuro migliore. Dal Presidente della Corte d'Assise e d'Appello di Brescia, Claudio Castelli. Castelli ha detto che i reati sono costantemente in calo e ora sentirete anche i numeri. Poi ha parlato di questa percezione di insicurezza che effettivamente c'è nella comunità. Secondo lui è totalmente infondata. reati sono costantemente in calo. L'Italia è uno dei paesi in cui ci sono meno omicidi al mondo in rapporto alla popolazione. Se voi andate a vedere, nel 1991 avevamo 3,4 omicidi nei 100.000 abitanti. Oggi abbiamo 0,50. L'unico dato che è costante, questo è l'elemento, sono i femminicidi. Nel senso che i femminicidi erano più o meno, un po' meno di 200 nel 1991, sono un po' meno di 200 oggi. Ma il resto, se uno va a vedere, tutti i reati, noi li vediamo anche ogni inaugurazione del giudiziario, li vediamo quando la polizia fa le sue conferenze a stampa, di solito a Ferragosto, sono costantemente in calo. Dopodiché i reati cambiano. Ad esempio quest'anno quello che mi ha notato è che c'è stata una fortissima diminuzione dei reati contro il patrimonio, un fortissimo aumento dei reati informatici. Però su questo, secondo me, c'è una sensazione, una percezione di insicurezza che in realtà è totalmente ingiustificata. Io non vedo perché la gente si deve trovare insicura a uscire per strada. Anche perché un altro elemento abbastanza positivo è che i reati predatori, che sono quelli che danno più insicurezza sociale, anch'essi sono fortunatamente in calo. Dopodiché c'è un intervento serio di controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine, c'è un intervento che bene o male fa anche la magistratura, per cui secondo me questa sensazione, percezione di insicurezza è francamente totalmente ingiustificata. Proseguiamo, andiamo oltre questo pomeriggio, questo venerdì pomeriggio è stato di passione sull'autostrada A4 a causa di un incidente, un scontro a catena che è avvenuto appunto sull'autostrada in territorio di Sirmione, code per chilometri e chilometri. Erano circa le 14.30 di venerdì quando sull'autostrada A4 si è verificato un incidente che ha tenuto in scacco per ore il traffico veicolare. Per la precisione l'incidente è avvenuto nei pressi del casello di Sirmione al chilometro 251 in direzione Venezia. Secondo quanto riferisce il portale dell'Agenzia Emergenza Urgenza di Regione Lombardia, sarebbero rimaste ferite cinque persone, di cui quattro sulla sessantina, pare in maniera non grave. Per almeno tre di loro si è reso necessario il trasporto in ospedale con l'ambulanza, due codici gialli e uno in codice verde. Come detto, inevitabili ripercussioni sul traffico rimasto parzialmente bloccato per alcune ore non solo sull'autostrada ma anche su tutta la viabilità circostante. Apriamo ora l'ampia pagina del giornale dedicata alla sanità. In primo piano c'è questo monkey pox, il vaiolo delle scimmie, così è stato appunto chiamato e ribattezzato in Italia. La situazione in Lombardia, almeno attualmente, vede zero casi a comunicarlo. È stata la Direzione Generale Welfare. La Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia esclude al momento la presenza di casi di vaiolo delle scimmie in Lombardia. Con queste parole la Regione ha voluto rassicurare sulla situazione legata al monkey pox, il vaiolo delle scimmie che ha già fatto registrare alcuni contagi in Europa e anche in Italia. In Lombardia sono comunque stati attivati sistemi di monitoraggio per vigilare sulla possibilità che emerga qualche caso. A tal proposito, come laboratori e centri di riferimento, sono stati scelti la SST Fatebene Fratelli Sacco di Milano e l'IRCS San Matteo di Pavia. Le infezioni o malattie trasmissibili tra gli animali e l'uomo zoonosi, ha commentato la Vice Presidente Assessore Welfare Letizia Moratti, sono un pericolo sempre presente a cui dobbiamo far fronte aumentando la nostra preparazione. Se in Lombardia, come abbiamo sentito, per ora di casi non ne sono stati riscontrati, in Italia qualche caso invece c'è, allora sentiamo il Direttore Generale della Prevenzione del Ministero della Salute Gianni Rezza. A seguito della segnalazione di alcuni casi di vaiolo delle scimmie in Europa, il Ministero della Salute ha tempestivamente allertato le regioni e messo in piedi un sistema di monitoraggio dei casi. Un primo caso è stato immediatamente identificato presso l'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani e altri due casi potrebbero essere confermati nelle prossime ore. Dato che il virus si trasmette per contatto diretto o molto stretto, però i focolai tendono generalmente ad autolimitarsi. Su questo tema vi invito ad andare sul nostro sito internet www.laibrescia.tv perché c'è un articolo completo che riporta quelle che sono le dichiarazioni, le considerazioni scientifiche del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità per scoprire anche qualcosa in più su questo virus a noi sconosciuto sul vaiolo delle scimmie. Ci spostiamo ora invece proprio sul nostro sito ma per parlare di Covid come ogni giorno, fare il quadro sulla situazione del contagio fra Brescia e la Lombardia. Ecco qua la consueta infografica regionale che ci dice come il tasso di positività si è rimasto sostanzialmente stabile così come ieri, qualche punto decimale in meno al 10,5% poiché con 33.517 tamponi processati i nuovi contagi sono poco più di 3.500. Quelli di Brescia sono 468, anche quest'oggi come sempre secondo incremento regionale dopo Milano, 1.145 per il capoluogo Lombardo. Buone notizie possiamo dire che troviamo nella voce dei decessi che rimangono sì tanti però sono sostanzialmente la metà rispetto alla giornata di ieri, 15 le segnalazioni nelle ultime 24 ore, notizie ancora più buone invece ci arrivano dagli ospedali perché ci sono due segni meno, era diversi giorni che non vedevamo due diminuzioni, meno due in terapie intensive, posti eletto occupati che attualmente sono 35 e un più corposo meno 33 invece in area medica e qui i pazienti ancora ricoverati nei reparti convenzionali sono 830 ovviamente in tutto il territorio Lombardo. Facciamo ora il quadro invece della situazione di Brescia o meglio del civile di Brescia perché come ogni venerdì anche in questo pomeriggio la direzione del maggior ospedale bresciano ha fatto sapere qual è la situazione dei ricoveri covid, i ricoveri covid che calano, calano anche in maniera abbastanza decisa però non in terapia intensiva. Dopo il leggero aumento della scorsa settimana oggi i ricoveri covid al civile di Brescia tornano a calare. Stando all'ultimo aggiornamento della direzione della SST cittadine infatti la riduzione sul totale delle persone ricoverate per covid è di 29 pazienti, i posti letto occupati passano infatti da 139 a 110. Stesso non possiamo dire per le terapie intensive perché in questo caso registriamo un aumento. I pazienti ricoverati nella rianimazione del maggiore ospedale bresciano sono sei mentre una settimana fa erano quattro. Il civile definisce in lieve incremento anche l'afflusso in pronto soccorso. Nell'ultima giornata sono stati infatti 16 gli accessi covid a fronte di 160 pazienti con problematiche non relative al virus. Cambiamo nuovamente argomento e torniamo a parlare ancora di piazza loggia di quelli che saranno le celebrazioni di qui a pochi giorni e in particolare quella che la stretta attualità lo sappiamo la revisione del processo per la strage il sesto processo su questa strage bene ieri abbiamo chiesto appunto al presidente della corte d'appello di Brescia Castelli un parere e l'abbiamo chiesto anche al sindaco di Brescia Emilio del Bono che ci ha detto Brescia non ha mai cercato vendetta ma verità. Sindaco lei ha detto Brescia in tutti questi anni non ha mai cercato la vendetta ma ha cercato la verità quindi oggi un 28 maggio nel corso del quale rivediamo un altro processo di revisione. Beh ha cercato intanto la verità storica e quindi qual è il contesto nel quale esplode la bomba di piazza della loggia chi sono coloro che ruotano intorno a quegli atti eversivi. Ormai è chiaro la matrice è fascista e neofascista è la matrice che ha cercato di far deragliare la democrazia nel nostro paese negli anni 60 negli anni 70 e quindi è chiaro che la matrice ci aiuta a comprenderne i pericoli perché noi abbiamo avuto dei pericoli reali. Noi siamo stati una città con una forte componente neofascista, siamo una città che ha avuto rapporti con il neofascismo veneto, siamo una città che purtroppo ha ospitato la Repubblica Sociale di Salò fino al 1945 e quindi fino alla liberazione dal fascismo e dal nazismo quindi noi abbiamo delle caratteristiche peculiari che oggi non sono più in discussione. Parallelamente si è cercata anche la verità giudiziaria che ha avuto un percorso molto più contorto, molto più complesso perché come inevitabilmente accade l'accertamento delle responsabilità personali, individuali e diciamo anche il materiale probatorio diventa molto più complesso rispetto ad un'analisi di natura storico-politica però è anche una città che ha seminato cultura democratica e l'ha fatto generazione in generazione, ragazzi e bambini nel corso degli anni hanno capito che cos'è, il 28 maggio hanno imparato a capire che la democrazia è pazienza e sforzo del confronto, hanno capito che la violenza è una scorciatoia inaccettabile, è tanta roba. Prosegue lo sciopero del trasporto pubblico locale anche in questa serata quindi mancano ancora qualche ora che potrebbe essere con qualche disagio, qualche disservizio. Venerdì giornata di sciopero per il trasporto pubblico locale e sono attesi i disagi nei servizi anche nel Bresciano. A differenza della scorsa domenica quando a incrociare le braccia sono stati i lavoratori di Trenord sono previste quest'oggi le fasce di garanzia. Si tratta di una girazione nazionale di 24 ore indetta dalla segreteria Cube Trasporti e sul nostro territorio potrebbero esserci modifiche del servizio a Brescia e a Desenzano del Garda. Ad annunciarlo è stata Brescia Mobilità che ha anche aggiunto di come queste modifiche potrebbero verificarsi da inizio servizio fino alle 6, dalle 9 alle 11 e 30 e dalle 14 e 30 fino al termine delle corse. Ulteriori disagi potrebbero però verificarsi anche mezz'ora prima e mezz'ora dopo gli orari indicati. Come detto a differenza di domenica che ovviamente era un giorno festivo questa agitazione ha luogo in un giorno feriale e quindi ci sono le fasce di garanzia del servizio. Ieri sera c'è stata la serata Brescia del fare e tantissime imprese presenti al Parco Hotel Canoa nella nostra città. Importante perché? Perché si è tornati a fare rete dopo gli anni della pandemia e si è poi anche capito quanto fare rete sia importante. Possiamo dire riuscita? Possiamo dire riuscito sì, sono contentissima, è stato molto emozionante proprio perché come ho detto sul palco c'è stato un incontro di persone, persone stupende che avevano voglia di incontrarsi, di generare, di creare e come ha detto il presidente di Cogeme facciamo impresa, facciamo le cose tante e facciamole bene perché possiamo farlo e Brescia ha tutte le carte in regola per fare le cose e farle bene quindi Brescia del fare rappresenta proprio questo. È un grande evento, Brescia è famosa per le sue aziende, aziende che vanno dalla manifattura all'artigianato al turismo, quindi tante attività che hanno bisogno di relazioni, di scambi, di reti, di mettere il proprio bagaglio a conoscenza degli altri e questa è una grande iniziativa che consente di fare questo. Oggi noi abbiamo il grave problema di non trovare la mano d'opera e anche questo è un grosso problema, la politica deve oltre a mettere le risorse pensare dal punto di vista educativo e formativo quali messaggi lasciare e quali messaggi lanciare anche ai giovani. Secondo Omel in questi anni di grande sofferenza le imprese hanno un po' compreso che è sempre più importante fare rete, fare squadra ed è anche emerso in modo evidente il ruolo sociale dell'impresa. Un'impresa non è solo un'azienda che cerca professionalità e produce un reddito e produce un utile ma è un'azienda che si inserisce in un tessuto sociale, in un contesto, con dei volontari, con un territorio che ha delle necessità e questa osmosi, questa capacità di passare know-how all'interno e all'esterno dell'azienda penso che sarà la risposta unica e possibile per le comunità. Ci prendiamo una brevissima pausa ma solo pochissimi secondi quindi rimanete con noi perché c'è da parlare di tanto, tantissimo sport. Tra poco. Paghi i bollettini e prelevi contante, paghi le tasse e i tributi o fai un bonifico. Tom & Jerry, facile, veloce. Aperto tutti i giorni, festivi esclusi, in via degli Alpini 33 a San Polino, Brescia. Buonasera anche agli amici sportivi di Live. In questi giorni davvero tanto, tantissimo lo sport, lo dicevamo anche poco fa, quasi non c'è tempo per parlare di tutto. Allora andiamo con ordine e parliamo della pallacanestro Brescia perché è la prima in ordine di tempo a scendere in campo. Lo farà fra poco, questa sera alle 20.45, una gara importante, fondamentale ma con tutta probabilità non ancora decisiva e sicuramente non da dentro o fuori. Questa sera si gioca gara 3. Sia chiaro, non è ancora arrivato il momento di definirla la gara del dentro o fuori. Una vittoria questa sera in casa di Sassari, però, sarebbe un toccasana per la pallacanestro Brescia. Positività per il morale, per il fattore campo e soprattutto per tornare a primeggiare in una serie che altrimenti può diventare molto rischiosa. Per strappare il pass per il turno successivo ci vogliono altre due vittorie. Una certezza che hanno entrambe le compagini e il fatto che le prossime due sfide si giocano al Palace Erra di Migni è un indiscusso vantaggio per i Sardi, che potranno contare sul tifo amico e su un parquet ben noto. La mente dei Bresciani non può che tornare all'ultimo e unico precedente in stagione sull'isola. Una vittoria nella quinta giornata di regular season a fine ottobre. La Germani quindi sa bene cosa fare, deve solo riuscire a metterlo in pratica sul campo. Passare il turno in trasferta potrebbe sembrare un obiettivo azzardato. Al di là della necessità di pensare partita per partita, potrebbe essere abbastanza allungare la serie e riportarla al Palaleonessa, così da potersi giocare il tutto per tutto fra le mura amiche. All'ultimo capitolo, all'ultima fase dei play-off c'è già la N-Brescia, allora parliamo di pallanuoto perché nei giorni scorsi abbiamo raccontato della vittoria contro Trieste che valsa ai Leoni di Sandro Bovo il passaggio alla finale, ecco la finale è già qui. È domani, gara 1 alle 18, ovviamente l'avversario è sempre quello, è la Prorecco. Allora ascoltiamo un po' il sentiment, le voci nel giorno prima della partita. Ascoltiamo Jacopo Valesiani e Nicolo Gitto. Siamo carichi e aspettavamo queste finali da tutto l'anno perché ci prepariamo per queste partite qua, per la finale campionato, la Coppa Italia, il Champions League, quindi partite molto dure, molto fisiche e soprattutto molto importanti per il proseguo sia della stagione ma per finirla in bellezza diciamo. Quel periodo un po' di appannamento in gara 1-gara 2, pensi che ti possa tornare molto utile alla squadra in vista di queste partite a livello anche di resilienza e di saper soffrire? Sicuramente abbiamo già dimostrato di essere una squadra che durante le sofferenze, durante i periodi bui comunque riusciamo a uscire sempre bene, quindi sì potrebbe sorvire ma noi dobbiamo entrare concentrati e fare tutto quello che ci dice il mister e rimanere sempre sul pezzo, solo così comunque possiamo portare a cadà un risultato. Noi siamo carichi e vogliamo far bene. Ci arriviamo pronti e soprattutto belli caldi perché la serie è stata lunga contro Trieste, è stata una bella semifinale e forse ci servirà ancora di più per entrare dentro questa finale scudetto dove daremo ancora di più, dovremo fare ancora meglio per fronteggiare la Prorecco. Noi sappiamo quanto valiamo, l'abbiamo anche dimostrato durante la stagione, però quando vai a affrontare le finali poi c'è sempre quel qualcosa in più che devi dare, quel qualcosa in più che devi dimostrare per aiutare il proprio compagno e cercare di vincere la partita. Si chiude qui questa edizione del telegiornale, io vi ringrazio per averci seguito anche quest'oggi e vi porto prima però di salutarvi per un'ultima volta sul nostro giornale online livebrescia.tv, eccolo qua solo per ricordarvi che qui trovate le notizie sempre aggiornate dalla redazione, trovate la diretta in streaming di Alive in questo piccolo box e trovate anche i banner dedicati ad esempio per accedere e iscrivervi ai nostri canali Telegram e così rimanere informati ricevendo tutte le notizie direttamente sui vostri telefoni cellulari. Grazie nuovamente per essere stati con noi, per averci scelto anche questa sera continuate a sceglierci anche dopo perché come sempre il paninsesto qui su Alive è molto ricco. L'informazione si aggiorna domani alle 12.30, nel frattempo un buon proseguimento di serata a tutti voi e a presto. Puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione Alive Play del nostro sito internet o riascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast.